Buonasera Milano, ottima partita dell'Inter che vince tranquillamente con l'Atalanta, che non è un avversario facile, però l'Inter questa partita l'ha fatta sembrare facile perché io non ho mai avuto la sensazione che l'Inter potesse non passare questo quarto di finale e credo che anche l'Atalanta è stata un po' condizionata perché i primi 5-10 minuti hanno provato a pressare più alto però poi hanno visto che non la beccavano mai e si sono abbassati e direi che hanno subito praticamente l'Inter tutta la partita. L'Inter ha sempre tenuto il pallino in mano e la squadra sta veramente bene fisicamente, infatti c'è da sperare che duri questa situazione di benessere fisico perché se così fosse fino a fine stagione l'Inter potrebbe sperare qualcosa di interessante a livello trofei, non diciamo nulla però se la forma è questa, adesso poi c'è il rientro di Brozovic, abbiamo visto Lukaku che sta veramente crescendo, l'Inter ha recuperato anche un ottimo defray, la sua miglior partita sicuramente in questa stagione e poi c'è Skriniar, Skriniar comunque è sotto contratto quindi deve giocare e non ha giocato con l'Atalanta quindi rispetto alla partita intera Atalanta c'è anche uno Skriniar in più, c'è sicuramente anche un Darmian in più, migliore in campo che ha sostituito molto bene Skriniar, certamente Skriniar è più bravo a difendere di Darmian però certe cose le sa fare meglio Darmian di Skriniar perché molto banalmente se pensiamo al gol di Darmian comunque sorprendente, diagonale di sinistro così, però voi ve lo vedete Skriniar che si inserisce e fa un diagonale del genere? io no, quindi da questo punto di vista sicuramente Darmian può dare qualcosa in più di Skriniar Lukaku dicevo ottima partita, primo tempo benino, secondo tempo bene, ha mancato solo il gol e io penso che Lukaku sia sulla via del recupero e questo mi fa molto piacere non è come ho sentito dire da qualcuno il caso che lui si giri e punti perché l'Inter al baricentro è piuttosto alto rispetto all'Inter di Conte e l'Inter di Inzaghi quindi non è che in tutte le situazioni lui quando riceve palla possa girarsi e puntare verso la porta uno perché non è ancora in condizioni splendenti per fare una cosa del genere e seconda cosa perché comunque si ha a meno campo a disposizione quindi è un altro tipo di situazione tattica bene anche Dzeko quando è entrato, comunque si ha fatto il suo e sottolineerei anche la prova di Cialanoglu e Mkhitaryan Mkhitaryan mi è piaciuto molto però anche Cialanoglu ha fatto veramente un'ottima prova e parecchio merito va a lui sul gol perché si inventa lui questa penetrazione dove fa una Veronica e alla fine poi serve Lautaro il quale fa l'assist per l'inserimento di Darmian molto preciso, veramente una sorpresa ecco anche perché è stato un inserimento sulla parte sinistra neanche sulla parte destra cosa posso dire ancora? Speriamo che continui così speriamo che continui così e vedremo come andrà a finire il derby perché gli auspici sono buoni però lo sapete il derby è una partita particolare quindi non è così facile pronosticare il risultato del derby se l'Inter gioca così ed è in questo stato di forma e il Milan è quello che abbiamo visto nelle ultime 3-4 partite non solo l'Inter lo vince il derby ma lo vince anche alla grande un saluto a tutti e alla prossima